oggi vi parlerò delle mie esperienze in norvegia di tutto quello che ho letto prima di venire qua e non ho trovato e invece di quello che non mi aspettavo e invece ho trovato ovviamente prima di venire in norvegia a vivere mi ero informata ma come si informano tutti googlando come si vive in norvegia e avevo trovato numerosissimi articoli di come si viveva bene in norvegia effettivamente mi dicono che non è proprio tutto che funziona come noi vediamo in italia quando facciamo le ricerche non è così facile trovare lavoro e a proposito ho fatto un video che vi link qua su come io ho affrontato la ricerca del lavoro e alla fine trovato un lavoro in norvegia come dicevo in questo video devi sapere parlare norvegese per poterti integrare un po' meglio nella società e quindi trovare un lavoro e io non lo sapevo non c'è scritto non c'è scritto in questi articoli a sì c'è la disoccupazione 0,4 per cento sì però per i norvegesi o per quelli che vivono già da anni che parlano perfettamente norvegese non per tutti quelli che arrivano moltissimi persone tossicodipendenti questa cosa mi ha fatto ritornare negli anni 80 90 in italia infatti è una cosa che veramente secondo me è scioccante per chiunque arrivi qua onestamente per esempio la sanità pubblica dicono che non sia un granché sono dovuta andare per esempio una volta al medico di base per farmi prescrivere una ricetta c'era una reception un receptionist che prendeva gli appuntamenti perché qui il medico di base non puoi andare lì aspetti finché devi telefonare e prendere appuntamento all'uscita la receptionist mi ha fermato e mi ha detto ah sì ma paghi con carta o con contanti? e ho detto eh? 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 cioè devo pagare? e mi ha detto sì sì sono 180 corone che all'epoca tipo erano 20 euro scusate ancora mi sbaglio comunque vabbè 20 euro ho detto ma come 20 euro cioè mi sono fatta fare una prescrizione medica cioè ma visto ve lo giuro 10 minuti e niente ho dovuto pagare e qui quindi il medico di base si paga ok? poi se voi avete avuto esperienze diverse ora lasciatemi un commento o cioè scrivetemi quello che volete oppure per confermare la mia la mia esperienza e qui è tutto essendo tutto molto organizzato è tutto molto organizzato mesi prima un concerto devi comprarlo mesi prima se non è sold out un weekend tu lo devi prenotare ai tuoi amici mesi prima ti devi organizzare qua perché ogni weekend c'è qualcosa da fare e generalmente la gente esce prevalentemente venerdì e sabato a volte anche domenica e questa è una cosa frustrante per me che vivevo a milano dove ok oggi cos'è mercoledì dai usciamo andiamo a fare l'aperitivo ha aperto quel nuovo bar in norvegia no ma soprattutto con le persone perché qui tutti vanno alla vita d'inverno praticamente sempre d'estate anche tutti i weekend se ne vanno da oslo c'è proprio la diaspora di norvecesi da dalla città e vanno tutti fuori c'è chi d'estate in camping fuori al lago montagna chi c'è la vita che questa seconda casa di cui noi non abbiamo la traduzione non si può tradurre mi hanno detto che non si può tradurre con baita perché in realtà la baita è in montagna invece la vita è la seconda casa di vacanza che può essere sia nel bosco che in montagna che al mare se vuoi fare una festa organizzare un aperitivo vuoi vederti con degli amici lo devi proprio come se fosse un matrimonio lo devi organizzare molto prima e su questo ci ho messo più di un anno ad adattarmi a questa cosa qua perché è tuttora la trovo frustrante per cui sono sempre a dover cercare qualcosa per il futuro il problema è che io non c'è dentro di me non riesco come milanese non riesco a pensare ma cosa faccio fra tre mesi non so cosa faccio fra una settimana vabbè comunque non è vero che i norvegesi sono freddi oddio si non è facile trovare amici wow sono riuscita a conoscere un norvegese io ho tipo si contano su le dita di una mano i miei amici norvegesi in due anni però questi amici che ho sono veramente persone meravigliose e molto accoglienti ti accolgono in casa loro avevo proprio idea ma fanno 100.000 attività sportive sci bicicletta corsa persino col passeggino ho visto un sacco di donne col passeggino che andavano a correre incredibile e canoa ma veramente tantissimi sport sono proprio fanatici dello sport poi non avevo idea non è che mi ha fatto venire voglia però un pochettino di più di attività sportive rispetto a milano le faccio qua anche perché c'è un bellissimo spazi verdi ovunque appena anche a oslo ma anche appena esci da oslo e quindi proprio ti incentiva a fare sport almeno a correre che a loro piace tantissimo stare all'aria aperta anche ad inverno freddo cane vabbè meno freddo di quello che immaginavo sinceramente però loro escono lo stesso a fare passeggiate a sciare o semplicemente a fare andare in giro i bambini a correre in mezzo la neve e quindi proprio c'è un contatto con la natura ci sono tantissimi posti laghi proprio a cinque minuti da casa puoi trovare laghetti montagne passeggiate nella montagna piste da sci le puoi trovare quarto d'ora a mezz'ora massimo di macchina quindi è veramente il contatto con la natura è fortissimo quello che già fate bellissima una cosa che non non avevo percepito prima di partire e prima di arrivare qua e io avevo grandissima paura del freddo ho detto sto andando al posto più freddo del mondo dopo l'alaska invece non è vero una sola volta un paio di giorni l'inverno scorso la temperatura è arrivata a meno 18 vi garantisco che non è non è così freddo tra meno 18 e meno 8 non cambia molto il freddo ve lo giuro poi qua è un freddo secco quindi non è il freddo di milano che a meno 2 te lo senti dentro le ossa no qui è un freddo gestibilissimo con delle giacche delle giacche a vento neanche troppo imbottite devo dire la verità te la cavi benissimo sì chiaro nevica di più e il periodo diciamo di freddo il periodo invernale più lungo più freddo che in italia evidentemente estate quando è diciamo maggio giugno e luglio c'è un sole e una luce spettacolare anche troppo perché poi diventi allucinato perché non capisci più che ore sono cioè se in un giro con gli amici alle 11 di sera c'è ancora una luce come se fossero le 5 del pomeriggio e ti sballa ti sballa tantissimo non immaginavo così tanto come dire differenza e veramente è quello che ho subito di più non tanto il freddo ma è la luce che è quella che mi ha lasciato più scioccata sia quando ce n'è troppo che quando ce n'è troppo poca perché da noi in italia bene o male qualche ora di differenza c'è ma poca e qui invece è estremamente estremamente diverso proprio l'orario di luce tra l'estate e l'inverno infatti io farei l'estate in norvegia diciamo aprile maggio giugno luglio in norvegia e il resto dell'anno in italia magari un giorno chi lo sa è tutto mi sembra insomma se mi viene in mente l'altro faccio un altro video se vi interessa anzi ditemi se vi interessa qua sotto sui commenti e se vi piace il trend di video che faccio sulla norvegia ho una playlist proprio dedicata ai video che faccio sulla norvegia sul fatto di essere espatriati qui di essere espatriati in generale e fatemi sapere anche che cosa vorreste sapere della norvegia io non dimenticarti di mettere like e iscriverti al canale è facilissimo basta che clicchi un bacio ciao ciao